voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio cari simblu ragusa amiche amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arceri oggi abbiamo il piacere di avere studio don mario modica con lui inizieremo proprio un percorso di riflessione sulla settimana santa ci accompagnerà proprio in questo percorso per tutta la settimana innanzitutto mario ti ringraziamo per aver accettato questo invito e di essere con noi per tutta la settimana ciao denise grazie a voi dell'invito e di questa opportunità che mi date e che date anche ai radioascoltatori che saluto affettosamente e oggi iniziamo con la domenica delle palme della passione del signore che segna l'inizio della settimana santa unisce infatti il trionfo regale di cristo che entra a gerusalemme osannato dalla folla e l'annuncio della sua passione questi due aspetti vengono evidenziati nella liturgia siamo tutti invitati e tutte invitate a meditare la sofferenza di gesù e la sua gloria e a sentire realmente questo struggente contrasto tra gioia e dolore non si tratta dunque solo di ricordare quello che è successo a gesù ma di rivivere questi eventi partecipando proprio concretamente al mistero della passione morte e risurrezione di gesù come dovremmo vivere dunque in modo autentico questo particolare momento che segna appunto come abbiamo detto l'inizio della settimana santa la domenica delle palme come dicevi tu poc'anzi ha questa doppia accezione da un lato la commemorazione dell'ingresso di gesù a gerusalemme quindi il trionfo di cristo che entra come re nella città santa dall'altra parte la commemorazione della passione del signore che avviene principalmente poi durante la celebrazione eucaristica penso che l'atteggiamento la disposizione d'animo con cui tutta la comunità cristiana si approccia a questi riti come a tutta la settimana santa d'altronde sia ben dialineata anche dai testi liturgici che la chiesa ci pone dinanzi e proprio nella domenica delle palme l'assemblea è invitata dai ministri e dai sacerdoti da coloro che guidano la liturgia a entrare con gesù a gerusalemme vi leggo uno stralcio di questo testo per dire proprio l'atteggiamento che i fedeli sono invitati a tenere proprio all'inizio di questa celebrazione ci dice la liturgia oggi siamo qui radunati affinché con tutta la chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro signore gesù cristo e quindi siamo tutti invitati a seguire il signore facendo memoria dell'ingresso a gerusalemme per essere partecipi del mistero della croce quindi l'invito che ci viene dalla liturgia è proprio quello di entrare con il signore a gerusalemme perché la sua pasqua questo passaggio dalla morte alla vita venga anche nella vita del credente entrare con il signore a gerusalemme infatti parliamo adesso nello specifico della commemorazione dell'ingresso di gesù in gerusalemme con cui inizia proprio la celebrazione della domenica delle palme ti chiederei di spiegare ai nostri radioscultatori alle nostre radioscultatrici come nasce perché e dove questa tradizione da sempre i cristiani hanno dato un particolare valore alla celebrazione della pasqua anche se la prima commemorazione della pasqua come giorno della risurrezione non è proprio quella annuale ma quella settimanale però già abbiamo delle testimonianze a partire dal quarto secolo siamo quindi nel 300 circa che in terra santa gerusalemme proprio nella ricorrenza annuale della pasqua i fedeli la comunità cristiana di gerusalemme si riunisce e proprio ripercorrendo nel tempo le tappe della passione di gesù a partire proprio dall'ingresso a gerusalemme si ritrova in più momenti della giornata e della settimana a pregare a lodare insieme il signore nei luoghi proprio in cui gesù ha vissuto la sua passione e l'ingresso a gerusalemme uno dei momenti più suggestivi di questa commemorazione proprio a gerusalemme si commemorava quest'ingresso a partire dal monte degli olivi con questa grande processione alla quale i fedeli partecipavano portando rami di olivo e di palma commemorando proprio l'ingresso di gesù a gerusalemme la doppia accezione cui facevamo accenno prima dell'ingresso a gerusalemme della passione è una commistione possiamo dire un'unione di due tradizioni questa di gerusalemme poi quella della chiesa di roma al tempo di leone magno siamo nel quinto secolo circa la celebrazione della domenica che ora noi chiamiamo delle palme aveva un carattere più riferito alla passione di cristo quindi man mano nel corso dei secoli queste due tradizioni si uniscono dando vita all'attuale celebrazione passando ecco per tanti poi eventi di modifiche variazioni del rito ma pressoché il significato è quello che ancora ricordiamo oggi l'ingresso di gerusalemme è un evento glorioso la gente acclama gesù con esclamazioni festose osanna benedetto colui che viene nel nome del signore è un evento dove viene preannunziata la regalità di cristo che si realizza poi in modo totale nella passione nella croce prima parlavamo di questi due aspetti gioia e dolore che ancora qui ritornano gesù è un re diverso è un re di misericordia e di amore comprendere la regalità di cristo in che modo dovrebbe aiutarci a crescere in umanità per quanto riguarda questo aspetto della regalità di cristo se ci riferiamo anche testi evangelici dell'ingresso di gesù a gerusalemme dobbiamo dire che quest'ingresso che è un ingresso messianico cioè proprio si compie quell'attesa del messia che entra a gerusalemme non era qualcosa di sconosciuto al popolo di israele perché le profezie da parte dei profeti particolare isaia o anche le promesse fatte a davide parlano di questo re che sarà un re diverso isaia addirittura parla di questo re che entra su un asino perché un re di pace un re che porta la pace quindi questo aspetto non è estraneo di una regalità diversa è chiaro che se ci riferiamo evangeli i discepoli e le folle hanno presente questa immagine di un re che entra a gerusalemme su un asino che un re che porta la pace dall'altra parte sono ignali del tutto di ciò che avverrà da lì a poco c'è di come questa regalità di cristo verrà portata a compimento nella passione morte risurrezione di gesù certamente potremmo dire che gesù è in qualche modo consapevole di quello che andrà a fare l'atteggiamento ecco con cui accostarci a questa commemorazione e proprio a questo aspetto della regalità viene fuori proprio dalle letture che la liturgia ci propone noi commemoriamo nell'ingresso di gerusalemme anche ascoltando il brano del vangelo attraverso la lettura degli evangelisti che ce lo propongono però questo poi ha un riscontro nella celebrazione eucaristica tutte le letture il primo carme del profeta esaia la lettera di san paolo e filippesi e poi la passione ci dicono come è questo re che noi abbiamo accolto non solo a gerusalemme ma anche nella nostra vita e con cui siamo disposti ad entrare in una dinamica di morte risurrezione mi viene in mente proprio la seconda lettura che l'inno di san paolo dalla lettera ai filippesi che parla di cristo che si abbassa nell'umanità fino alla morte e alla morte di croce e proprio grazie a questo abbassamento lui è innalzato come re con un nome che al di sopra di ogni altro nome quindi è una regalità che passa necessariamente attraverso l'umiltà e l'umiliazione che anche in cristo si manifesta proprio nella morte di croce ed è l'atteggiamento che anche i fedeli sono invitati a fare proprio e cioè a comprendere come anche abbiamo ascoltato nella quinta domenica di quaresima che l'innalzamento a quale è destinato il maestro gesù è un innalzamento che riguarda anche discepoli ma questa gloria questa vita eterna questa vita in pienezza passa attraverso la passione la morte di croce dopo la processione la liturgia si caratterizza per la lettura del racconto della passione di gesù secondo l'evangelista dell'anno in corso quest'anno nello specifico marco il racconto dell'evangelista marco si concentra in tre episodi l'ultima cena la preghiera al gezzemeni e la crocifissione è un momento molto solenne io ti chiederei di spiegare le indicazioni diciamo liturgiche legate a questo momento la celebrazione eucaristica ha inizio con la processione quindi arrivati in chiesa direttamente il sagerdote prega l'orazione colletta cosiddetta e ha inizio la liturgia della parola come di consueto anche se i testi come dicevamo poc'anzi sono molto intensi molto densi di significato e si giunge così alla proclamazione della passione del signore è qualcosa di inusuale rispetto alla liturgia che celebriamo quotidianamente ogni domenica perché questo racconto della passione è fatto nella maniera più semplice e più cruda possiamo dire che si possa immaginare non si fa un saluto all'assemblea il classico saluto il signore sia con voi ma direttamente si inizia con l'incipit del vangelo passione secondo l'evangelista dell'anno in corso quest'anno marco e da lì ha inizio questo lungo racconto lungo proprio anche nel tempo perché questo dobbiamo anche tenerlo sempre presente i racconti che gli evangelistici propongono della passione tutti e quattro i racconti sono una parte molto più lunga in proporzione rispetto a tutto il vangelo perché è evidente che ogni vangelo si è costruito a partire dal racconto della passione della risurrezione di gesù non viceversa e quindi questo racconto fin dai primi secoli per la comunità cristiana ha avuto un'importanza fondamentale perché era lì l'annuncio della salvezza vi dicevo che la proclamazione della passione avviene secondo una forma così semplice quindi senza un saluto iniziale senza l'utilizzo né dell'incenso né dei ceri che a volte accompagnano nelle celebrazioni più solenni la proclamazione del vangelo e per un approccio un po più pastorale ecco anche di partecipazione più attiva e facilitata per l'assemblea la liturgia propone di poter proclamare il vangelo in una forma dialogata attraverso il racconto fatto da un cronista e le parti proprie che si riferiscono a gesù o alla folla ai discepoli agli altri personaggi che intervengono assegnati ad altri lettori questo per rendere evidentemente più dinamica la lettura della passione e per evitare che magari la distrazione per un racconto così lungo prenda il sopravvento però la cosa molto significativa è il fatto che questo racconto si mantenga proprio nella sua purezza nella sua continuità soprattutto e venga letto così nudo e crudo possiamo dire perché già in sé è molto suggestivo quindi i fedeli grazie a questo racconto possono entrare pienamente nei misteri della passione della morte del signore mario prima di salutarti vorrei concludere questo primo appuntamento dedicato all'approfondimento della settimana santa con un tuo augurio rivolto ai nostri radio ascoltatori e le nostre radio ascoltatrici in occasione di questa giornata la domenica delle palme l'augurio è quello di riuscire ad entrare come ci invita la liturgia nel mistero della pasqua con gesù anche quella processione che compiremo nella domenica delle palme dopo la benedizione dei rami di olive di palma ma sia davvero non soltanto un camminare rituale con rito che dobbiamo compiere o addirittura a volte ancora siamo legati ad una certa scaramanzia nella benedizione delle palme ma davvero siano tutti segni parole simboli che ci facciano entrare davvero nel mistero della pasqua che il mistero fondamentale della nostra vita della nostra fede è il mistero su cui si basa proprio la nostra vita di credenti è entrare con gesù per fare nostra ecco nella vita quotidiana poi quella dinamica continua di passione morte risurrezione che gesù ha vissuto e attraverso cui ci ha donato la salvezza ecco questo è il mio augurio di entrare con gesù a gerusalemme per fare pasqua con lui nella nostra vita io ringrazio don mario modica per essere stato con noi grazie mario di cuore grazie a voi buona domenica delle palme buona settimana santa salute ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito buona domenica delle palme un caro saluto un abbraccio a presto denise arceli avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa